è arrivato il momento di fare il sesto e ultimo livello del gioco tartaruga ninja 2 back from the sewers versione gameboy insieme a the kawabanga collection dobbiamo fare surf nelle fogne però bisogna evitare tutte le trappole le mine con gli spunzoni e poi bisogna stare attenti anche a questi missili che ci vengono addosso qui dobbiamo evitare i raggi laser che ci sparano addosso i nemici ci danno ancora filo da torcere purtroppo non ci mollano era un grosso carro armato quello qualcosa mi dice che si deve affrontare qualcuno e quel qualcuno è senza dubbio il generale tragg sarà difficile batterlo il generale tragg anche lui viene dalla dimensione x e anche lui si appallottola e spara con la sua arma fa uguale a granitor è il generale tragg ecco lo stiamo per sconfiggere lo stiamo per eliminare e vediamo che succede una volta tolto di mezzo il generale Tragge ora possiamo proseguire e andare avanti com'è che i Fuzzodiers si divertono a scivolare arrivano anche sti robottini ma alvagi i Road Kill Rodney ritornano questi spregievoli sponzoni spregievoli spregiovani tra poco ci sarà un altro boss che dovremo affrontare dopo il generale Fragger ora si sale con l'ascensore e guardate che succede ancora non lo sappiamo prima dobbiamo sbarazzarci di questi soldati ninja oh ma quanti sono questi food soldiers ne stanno arrivando ancora guardate cosa fa Krang ci fa precipitare ma noi riusciamo a salvarci non è successo niente ragazzi io pensavo che ci fosse un boss da sconfiggere invece no falso allarme va bene andiamo avanti lo stesso vi devo salutare grazie a tutti grazie a tutti